Se riusciamo a riuppula Bravo Lorenzo Lorenzo viene in sostegno quando si parla anglosassone che credi caro di Ziani non riesco a parlare se tu chieres parla conmigo potremmo parlare in castellano o potremmo parlare in català se tu chieres però l'anglosassone si occupa Lorenzo perché Lorenzo ricordiamo che ha lavorato con i più grandi gruppi musicali mondiali dai Blur agli Oasis si si rilacciavano le scarpe si esatto ricordiamo che ogni volta quando è Natale Bruce Pinsic gli manda gli auguri a casa arrivano le accentocelle c'è il posto e dice ma guardi che c'è uno che le scrive al nome ciao va i Bruce ma chi è? dice lui ma è il boss così ci riprova sempre lo so però tu giustamente hai detto ma io sono tanto ben accentocelle dove ne affanno i giorni ma si voglio dire voglio dire lì poi fa freddo inverno nevica esatto ma poi non c'è la carbonara non c'è la carbonara perché lì gli americani ti fanno mangiare i maccheroni con certe corpette grosse come i sergi con i funghi che sembra che te escono fuori altro che a corti adesso comunque stiamo divagando Lorenzo allora io faccio questa proposta non riusciamo a parlare con Gianluca magari dopo ci riproviamo ci riproviamo a parlare di football con Gianluca allora io manderei manderei i Blair proprio con FIFA 98 e se siamo d'accordo mancano abbiamo fatto 46 minuti di trasmissione possiamo chiudere in onore del nostro amico Riccardo Vagnarelli dicendo che purtroppo finché ce l'ho dito non c'è speranza che anche lui ha tenuto fede alla sua contestazione non andando allo stadio che oggi la Lazio ha giocato l'ennesima volta male che è un allenatore ignorante volgare antico come Ray a sostituito un giocatore come Keita il ragazzino che stava dando e quindi è giusto che ha pareggiato 3 a 3 quindi noi chiudiamo con i Blair e proviamo proviamo dopo le stesse persone magari in più ah ecco lei ci dice subito di no però proviamo e andrà in onda una trasmissione che si chiama Show Random pura espressione Borgatana esatto Villani allo sbaraglio ah bellissimo Gordian Village Gordian Village ha giudicato ha giudicato in diretta allora mandiamo i Blair in chiusura ovviamente adesso abbiamo io e Lorenzo diciamo ci siamo messi d'accordo sulla musica nella puntata che verrà successivamente dopo questa io non potrò e nessuno qui a meno che non lo decide lui decidere la musica perché la decide tutta Lorenzo ha questo potere che gli viene dato dal sottoscritto magari poi io vi farò delle richieste c'è che mi metti Thunder Road Thunder Road che racconta questa storia di questo ragazzo che prende questa ragazza sulla bello adesso si sta dilungando troppo Tiziano dai allora chiudiamo con i Blair io però spero che rientriamo dopo con questa puntata Lorenzo perché sarebbe anche bello far parlare anche gli altri eh certo sì 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 va bene salutiamo Valerio devi salutare ciao a tutti bravissimo esatto alla prossima hasta luego visca al Barça visca a Catalunia e visca a Roma ciao 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 a tutti Grazie 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 a tutti